Un momento di partecipazione che da un lato ci dice che noi sosteniamo senza nessuna ambiguità il popolo ucraino nella giusta lotta dell'Ucraina per difendere la propria integrità territoriale e i propri diritti, però dall'altro che sia necessario avviare un percorso di dialogo che consente una soluzione negoziale di questa guerra che è già durata troppo e che oggi ha bisogno che i grandi della terra si mettano intorno a un tavolo e decidano di trovare una soluzione equa che porta alla fine di questo conflitto nel cuore dell'Europa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.